Siamo pronti, prendiamo per mano, stai tranquilla, possiamo solo togliere la scatola che la puoi e anche la grazia. Guarda, per gli animali non c'è trucco. Adesso in ipnosi, vedi? Questo è stato fatto in diretta sotto i nostri occhi, eccola. Potrebbe stare lì mezza giornata, lì ce la riprendo. Questa è meglio di no, questa è la che mettiamo lì, è la nostra che sta, la nostra che sta.